Il presidente polacco Andrzej Duda ha posto il veto a una controversa legge sulla proprietà dei media, che secondo i critici aveva come scopo mettere a tacere il canale di informazione indipendente TVN di proprietà del gruppo statunitense Discovery. Opposto il veto, ha detto Duda in un annuncio in televisione, dopo pesanti critiche alla legge da parte degli Stati Uniti. Dobbiamo regolamentare il mercato anche con le imprese straniere presenti. È necessario, ma va fatto bene. Senza aggiungere all'ultimo momento emendamenti in contrasto con la legge e le norme costituzionali. Senza infastidire i nostri cittadini. Il testo, adottato dal Parlamento polacco il 17 dicembre, voluto dal Partito Populista Diritto e Giustizia al Potere, voleva impedire alle imprese non appartenenti allo spazio economico europeo di detenere la partecipazione maggioritaria delle società polacche e dei media. La scorsa settimana i cittadini polacchi sono scesi in piazza in varie città per protestare contro la legge, con cui, secondo gli oppositori, il governo è determinato a mettere a tacere i media critici e indipendenti. Il governo, che dal canto suo, sostiene di voler proteggere i media polacchi da attori potenzialmente ostili, come la Russia.